Nel profondo c'è una passione, questa passione la leggo a te, se per le strade nessuno cammina, e perché stiamo cantando per te, c'è una barriera che stai con la nuova, il suo colore è più bello che c'è, la libertà non tratta da nel cuore, perché il coro sei tutto per te. Un uomo adulto se torna al fanciullo diventa poerile, ma se ripropone attraverso un'ottica più matura questa fanciullezza, questa cosa può diventare anche un briciolo di poesia. Il bambino invece diventa del toro quando il papà lo porta allo stadio e vede la curva del toro rispetto alle altre. Noi il nostro appello è nel modo di fare il tifo, non è nella squadra. Ce l'abbiamo fatto, finalmente! Non potevo invecchiare così, non potevo invecchiare. Lui dall'Ucraina viene! Per ti fare il toro? Per ti fare il toro, solo per il cuore. C'è solo il toro? Solo il toro per il toro. Bellissimo, guarda, noi si viene da Arezzo. Da Arezzo per vedere il toro? Da Arezzo, come no! Oggi è stata una bella partita, il grande toro era tanto che non si vedeva così. Poi siamo venuti da distante noi. Sì, da dove venite? Ancona, parco, guarda. Porta il toro! Buonasera, bentrovati. Dunque, con una partita disciplinata, ordinata, tutta all'insegna dell'applicazione, quell'applicazione tanto richiesta e tanto invocata da Iuric anche nell'ultima conferenza stampa, il Torino si prende i tre punti a Salerno in modo meritato e con un risultato largo. Un risultato che fa caldo al cuore. Il Torino non ha giocato una partita spettacolare, non c'era da aspettarselo, però, come dicevo, l'ordine, la disciplina, l'applicazione, la capacità di occupare gli spazi e di occupare il campo secondo i criteri probabilmente impostati in settimana, ma che sono quelli ricercati da una squadra che vuole offendere ma non vuole farsi offendere, dicevo, spettacolo poco, non così eclatante, ma risultati ed efficacia molta. E' una partita, è stata una partita quella di Salerno in cui non ci sono state insufficienze, tutti i protagonisti in campo, alla fine 16 protagonisti sono stati sufficienti, alcuni più che sufficienti e qualcuno addirittura buono. brillano anche coloro che avevano lasciato così qualche dubbio, qualche perplessità nelle prime partite, in avvio di stagione, forse per ritardo di condizione, forse perché non erano ancora nei meccanismi della squadra come si richiede. certo di lavoro ce n'è ancora molto da fare, lo dicevamo dopo il Geno che nonostante i tre punti da lavorare c'è molto e c'è da lavorare molto in tutti i reparti e per tutte le evoluzioni e transizioni, sia difensive che offensive. Però quella di Salerno è stata una bella vittoria, una vittoria che premia la squadra, che premia il lavoro della squadra svolto durante la settimana ma ne premia anche Iuric. Iuric che partiva ad handicap perché non dimentichiamo che ci siamo presentati in terra campana con tre assenze pesanti. Il ritorno dalle nazionali ci ha privato di Ilic e di Voivoda, entrambi infortunati, e poco prima dell'incontro anche Vlasic ha dato forfè per una gastroenterite. Quindi tre titolari o potenziali titolari fuori, formazione reinventata da Iuric e i sostituti hanno risposto non soltanto presente ma hanno fatto una prova di vaglia, di valore. Penso a Sec, quantomeno per la quantità delle giocate e per la sua capacità di essere sempre pericoloso o almeno di mettere sempre in apprensione la squadra avversaria. Non è perfetto Sec. Molte delle sue giocate, anche e soprattutto quando ricerca il tocco in più o quando ha quel pizzico di elaborazione in più al posto della semplicità, sono rivedibili. Comunque ha fatto un'ottima prova, probabilmente tra i migliori in campo è stato Dembasek. E insieme a lui anche Zapata ha fatto un'ottima partita, ha fatto capire qual è il peso di un attaccante che insieme all'aspetto fisico, insieme ai muscoli, insieme alla prestanza e quindi alla capacità di fare sportellate con le difese avversarie associa anche una discreta tecnica e la capacità di lasciare in apprensione come dicevo sempre la difesa avversaria. Tra l'altro Jomber lo ha malmenato per un bel po', si è meritato in modo tardivo secondo me un giallo che poteva anche essere di un altro colore e poi effettivamente Paolo Sosa lo ha fatto uscire, lo ha sostituito nel secondo tempo. Ma la squadra si è comportata bene in quasi tutti i suoi elementi, molto bene, soprattutto la spina dorsale. Contento anche per Milinkovic Savic che non ha sempre avuto i favori della cronaca, a giusto titolo, non ha mai avuto i miei personali favori ma ha fatto e come il proprio dovere domenica sera. Sia in avvio di primo tempo che in avvio di secondo tempo la Salernitana tra l'altro è partita sprombattuta in entrambe le fazioni ma si è spenta subito. Dicevo Milinkovic Savic ha fatto almeno un paio di interventi molto interessanti, uno addirittura per me sul colpo di testa di Fazio salva risultato e ha comunque dato una discreta sicurezza al reparto arretrato perché non si è mai fatto cogliere in preparato o comunque in affanno. Buongiorno, insieme a Schurz e a Rodriguez ha disputato un'ottima partita. raramente sono stati pericolosi i salernitani che si affidano soprattutto si sono affidati soprattutto all'estro all'inventiva di due giocatori come Candreva e Cabral che hanno fatto molto fumo ma poco, pochissimo arrosto. Cabral che poteva così raddrizzare la partita in finale di primo tempo quando ha preso un palo clamoroso tra l'altro su un'azione di contropiede Torino in vantaggio di 2-0 che si fa cogliere veramente un po' impreparato in quell'occasione si fa cogliere da un contropiede velenoso con una palla che sbatte clamorosamente sul palo ritorna in campo è il centroavanti avversario lì solo soletto ovviamente senza poterci fare niente non aveva la possibilità di controllare il pallone ma sbattendogli sopra il pallone finisce in tribuna bontà nostra un po' di fortuna non si rinnega mai anzi visto che noi siamo in debito con la fortuna come ben tutti sappiamo il centro campo si è comportato dignitosamente sia in fase di contenimento che in fase di impostazione un po' meno in fase di impostazione diversi errori soprattutto nel primo tempo soprattutto in certi casi sembra quasi così non dico disattenzione ma quel pizzico di applicazione in più che manca per poter finalizzare correttamente le cose comunque una partita importante per quanto riguarda la motivazione è sempre bello andare a vincere largamente fuori casa su un campo che non è così facile come quello di Salerno parentesi straordinaria comunque la loro curva il loro tifo chiusa parentesi e sugli scudi buongiorno ovviamente al suo secondo gol in serie A e che sblocca il risultato è Nemanja Radonic che ne fa due doveva poteva farne tre perché il terzo lo aveva fatto prima ma un fuorigioco di qualche centimetro glielo nega e poi lo sbaglia in modo clamoroso quando Zapata gli mette il più facile dei palloni da buttare dentro lui invece accartoccia la situazione accartoccia l'occasione e la butta nel cestino della carta straccia sarebbe stato bello che Nemanja Radonic capocannoniere attuale della nostra squadra si fosse portato a casa il pallone non fosse altro perché premiava comunque un giocatore che possiamo così a volte storcere il naso ma si rivela di giorno in giorno più importante e più calato nel ruolo e nella responsabilità che gli viene richiesta un giocatore che come piacciono a me sono quelli che puntano la porta avversaria che vanno in avanti che verticalizzano che non indulgono in tentennamenti o in troppe speculazioni domenica sera è stato lunedì sera scusate è stato premiato anche da una bella doppietta bellissimo anche il gol che gli è il terzo gol che gli è stato negato quindi chiudiamo qui il punto su Salerno ci aspettano adesso le due romane una in casa e una fuori due squadre che anche la Roma nonostante il 7 a 0 all'Empoli della giornata scorsa non sono all'apice della forma ci sono anche così diversi diverse rumors e un po' di inquietudine nell'ambiente soprattutto sponda laziale starà a Iuric starà al Torino poter approfittare anche di questa momentanea debolezza o sedicente delle due romane è tentare almeno con una delle due un colpo con una delle otto sorelle con una delle squadre che facendo parte dell'otto di otto secondo tutti più forti del campionato potrebbe anche lì dare un bellissimo colpo non soltanto alla classifica ma anche all'ambiente e alla motivazione oltre inoltre a farci gioire a noi tifosi che siamo sempre alla ricerca e in attesa dei tre punti se andiamo indietro nel tempo per parafrasare una scrittura sacra all'inizio era il verbo inizialmente diffuso principalmente attraverso le radio quelle grandi e possenti con addirittura quei valvoloni che dominavano il caffè e le case di coloro che potevano permettersele successivamente venne riverberato dalle piccole radioline tascabili che accompagnavano con il loro brusio le uscite domenicali degli italiani ma ancora prima di questo molto prima che ci fosse l'abbondanza di immagini televisive saturate di moviolone iperrealistico di inquadrature in super slow motion di spettacolari riprese dalle spider cam e di dettagliate analisi del dubbio attraverso la tecnologia del goal line e non solo c'era un affascinante artificio che nutriva l'immaginazione delle generazioni di appassionati di calcio prima di questo e poi per un certo periodo fino quasi all'ambire appunto questa era ipertecnologica vale a dire le illustrazioni disegnate su una rivista o meglio ancora le disegnate così come venivano chiamate ora vi dico due nomi Carmelo Silva da Treviglio e Franco Bocchicchio da Savona come il manzoniano Don Abbondio qualcuno si dirà ma chi sono costoro sono due artisti due artisti che quando calcio e televisione non erano ancora sposate in modo definitivo e assoluto quando la moviola era un nome che poteva forse evocare un fiore ma non certamente la riproduzione dettagliata di un'azione o di un gol quando tutto questo cioè era di là da venire almeno per Carmelo Silva con le loro opere regalavano il supporto visivo all'emozione soltanto ascoltata o letta per ordine cronologico e per rispetto di ascendenza e autorità parliamo in primis di Carmelo Silva dunque Carmelo Silva soprannominato soltanto Silva è stato un pioniere nell'arte di rappresentare visivamente le azioni del calcio la sua carriera comincia negli anni 30 e termina negli anni 90 e ha disegnato i gol maggiori più importanti di ogni parte del mondo soprattutto però ovviamente dell'Italia del campionato italiano ma documentò anche gli incontri della nazionale di calcio del campionato del mondo del 38 ad esempio documentò le straordinarie imprese del famoso trio Grenoli del grande Milan documentò il grande Torino oltre a numerosi giri d'Italia di ciclismo con la sua matita con le sue matite che ha affidato la storia del calcio le fasi salienti della celeberrima partita Italia-Germania 4 a 3 e il vittorioso mondiale dell'82 quindi vedete che lo spettro coperto da Silva da questo straordinario artista è ampio variegato e come vedremo di una qualità inequiparabile quindi prima dell'avvento della televisione e dell'accesso diciamo così illimitato a immagini e video su internet Silva ha creato con le sue disegnate cioè il disegno dettagliato di goal e di azione significativa la ricostruzione certosina diciamo così minuziosa di quanto avveniva sul campo utilizzando carta pennino e colori le sue opere sono vere e proprie opere d'arte che catturano il momento epico di una partita e soprattutto ovviamente il momento culminante di una partita vale a dire il goal cioè attraverso il suo stile che potremmo definire stilizzato ma comunque in questa in questa forma essenziale c'è tutta la liricità delle silhouette in movimento il dinamismo e persino l'uso dell'alfabeto per indicare la progressione del gioco e delle azioni Silva ha offerto una rappresentazione allo stesso tempo sintetica ma emozionante di quello che stava accadendo in campo le sue illustrazioni senza veramente usare troppe iperboli ma lo meritano per certi aspetti non era soltanto la documentazione visiva del goal ma se mi permettete contenevano addirittura una dimensione psicologica come ad esempio guardiamo si notino i trattini sulla testa del portiere sconfitto o il disorientamento del difensore superato in dribbling ogni disegnata ed era un'emozione quasi indiretta anche se il goal era stato probabilmente e in alcuni casi già visto e addirittura rivisto in televisione Carmelo Silva per così tracciare qualche linea biografica aveva una formazione in disegno e aveva iniziato a contribuire soprattutto con disegni e caricatura a giornali locali fin da giovane e di Treviglio nel corso degli anni ha lavorato per importanti settimanali sportivi i più importanti tra cui il calcio illustrato il guerring sportivo e anche per quotidiani come la notte e il corriere della sera e poi dal 1982 anche con la gazzetta dello sport inoltre ha contribuito per quella vera e propria bibbia del calcio che negli anni della mia gioventù rappresentava forse l'oggetto più concupito e l'oggetto più desiderato e salvaguardato e tenuto come una reliquia cioè vale a dire l'almanacco illustrato del calcio della Panini credo diverse generazioni hanno passato giornate intere a compulsare questa questa sorta di vademecum che tra notizie informazioni e illustrazioni riempiva di gioia le nostre ore l'abilità tecnica l'occhio per il dettaglio la sua interpretazione psicologica come dicevo e finalmente cioè tutto questo condensato in una verba artistica molto alta hanno reso Silva un'icona nel mondo delle rappresentazioni visive del calcio tra l'altro questo signore era noto anche per una personalità non proprio facile nel senso che era molto riservato addirittura viene descritto anche come burbero ma la sua presenza nelle varie redazioni che ha frequentato e che redazioni era comunque sempre molto apprezzata ha smesso di lavorare negli anni 90 già avanti con l'età tra l'altro un particolare che si è così estratto dalle note biografiche che si possono reperire e che lui abitava a Treviglio lavorava a Milano e ha sempre fatto il pendolare per decine di anni lui ha preso il treno al mattino e ha ripreso il treno alla sera proprio perché casa sua il suo ambiente la sua dimensione di paese potesse e dovesse essere preservata tra l'altro c'è anche una nota abbastanza singolare legata a Carmelo Silva che lo avvicina al mondo del cinema infatti Carmelo Silva fece anche un'apparizione e non secondaria nell'albero degli zoccoli di Ermano Olmi tra l'altro il film vinse la palma d'oro a Cannes e Ermano Olmi gli fece interpretare il personaggio del prete nonostante Silva fosse ateo questo è un particolare che aggiunge un pizzico di fascino alla sua storia dimostrando come la sua arte fosse conosciuta e apprezzata anche al di fuori del campo sportivo passiamo ora a Franco Bocchicchio invece Savonese che è un po' l'erede e il continuatore legittimo dell'opera di Silva Franco Bocchicchio ha iniziato la sua collaborazione con tutto sport nel 1984 ma il suo primo disegno pubblicato su un giornale risale a qualche anno prima sentiamo le sue parole cito le sue parole il mio primo disegno pubblicato è apparto sul guerin sportivo un gol del 7 ottobre del 1979 nella rubrica la palestra dei lettori della partita Bologna-Inter in effetti proprio in quella stagione Bocchicchio disegna un gol di Evaristo Beccalossi Evaristo Evaristo non ti ferma neanche Cristo dunque un gol di Evaristo Beccalossi su un cross di Pasinato a Bologna e decide di inviare il suo disegno al guerin sportivo la rivista sportiva molto popolare e per eccellenza di quegli anni che lo pubblica dopo alcune settimane infatti il guerin sportivo pubblicava anche una sorta di posta dei lettori e non soltanto con le note testuali ma anche con i disegni inviati dai lettori la passione così la passione è nata da bambino si legge nella biografia di Bocchicchio e la fusione con il calcio la fusione della sua passione per il disegno con la fusione per la passione per il calcio è stata quasi naturale confessa e afferma ovviamente come non pensarlo che amava le moriole di Carmelo Silva che per lui ovviamente rimane il top inarrivabile come chiunque si metta così a scuola a bottega da qualcun altro riconosce nel maestro l'autorità dei maestri il che fa anche molto onore a Franco Bocchicchio che è comunque un artista eccellente quindi la sua carriera inizia per caso quando a 21 anni decide di mandare alcuni dei suoi disegni visto anche il successo che aveva avuto così mandando la posta dei lettori nel 79 questo disegno pubblicato comunque decide di mandare a dei quotidiani i suoi lavori ai principali quotidiani sportivi italiani e riceve una chiamata cioè mi telefonò un giornalista di tutto sport Mario Bardi invitandomi in redazione a nome del direttore Paolo Dardanello i suoi disegni erano piaciuti quindi passa 15 anni di collaborazione con tutto sport e interrompe la sua attività di disegnatore nel 1999 tuttavia è tornato recentemente la sua passione grazie all'iniziativa campionato dei sogni PES su Facebook e per quell'occasione ha ripreso il suo lavoro anche perché ha visto che c'era un grande interesse per quello che aveva fatto e soprattutto per come lo aveva fatto internet ogni tanto non ha soltanto preso ma anche restituito tra l'altro il suo metodo di lavoro nei giorni così in cui si dedicava in modo esclusivo e con quale profitto a questo era unico di nuovo cito da una sua intervista mentre mentre molti colleghi utilizzavano il videoregistratore io prendevo appunti a sviluppare una memoria fotografica capitava che fossi in trasferta per lavoro e che non potessi vedere le immagini dei gol allora me le facevo descrivere e li disegnavo bisogna avere la capacità anche di immaginare la magia delle moviole e anche questa fine citazione io trovo molto bello e significativo questa questa combinazione tra parola racconto fantasia immaginazione e poi ovviamente una grandissima perizia tecnica perché non dimentichiamolo forse abbiamo già avuto anche occasione di dirlo cioè il grande artista non è l'artista scellerato genio esregolatezza il grande artista è soprattutto colui che mette al servizio di una grande tecnica e di una grande disciplina un'immaginazione una capacità mnemonica una capacità di fissazione e quindi una capacità di metodo non indifferente un momento memorabile della carriera di Bocchicchio è stato quando ha realizzato ben 48 moviole in una sola notte 48 moviole in una sola notte era il 22 settembre del 1992 e nonostante ci fosse in corso purtroppo l'alluvione a Savona che aveva paralizzato i treni la moglie di Franco si è assicurata che i disegni arrivassero alla redazione della stampa e poi a tutto sport attraverso i treni e con una sorta di catena virtuosa tra la casa di Franco Bocchicchio la stazione di Savone e poi la stazione e le redazioni di Torino affinché questi 48 disegni realizzati in un colpo solo in una notte sola arrivassero a destinazione quindi la storia di Silva e di Bocchicchio prima di tutto è un tributo importante che Radio Granate e Tre Punti vogliono dare a questi due grandi artisti che ovviamente non è una questione di competizione disegno tecnologie ma è un supporto e il cambiamento che c'è stato è probabilmente un cambiamento anche importante e significativo così come resta significativo anche questo contributo artistico questo contributo iconico che Silvia e Bochicchio ci hanno regalato negli anni e quanti sogni ci hanno regalato e quindi è un mondo affascinante un viaggio affascinante nel mondo delle moviole o delle disegnate come le chiamava Silva un mondo di passione e di dedizione un mondo con un pizzico di romanticismo che circondava le redazioni e la creazione dei disegni raffiguranti i gol e le partite che queste redazioni integravano nei racconti giornalistici che venivano fatti ora è innegabile che senza peccare di nostalgia pelosa e fuori luogo che l'effimero delle emozioni è andato un po' perso un effimero che rappresentato in disegno si fissava e si fissa ancora quando li ripercorriamo con la potenza della vera arte lunario granata 20 settembre dunque in questa data il torino ha disputato 31 partite con 21 vittorie 2 pareggi e 8 sconfitte mica male il 20 settembre è una data emblematica per i colori granata una data molto importante tra nascite esordi e partite importanti e purtroppo anche qualche scomparsa non c'è che l'imbarazzo della scelta cominciamo con le partite significative non importantissime interessanti comunque da prendere in considerazione stagione 81-82 seconda giornata Torino-Bologna 1 a 0 vittoria e primo posto in classifica per la compagine guidata da Giacomini dunque la stagione 81-82 è difficilissima per il toro fra cessioni dolorose Graziani e Pecci in primis problemi economici e pianelli vicino a lasciare ma Giacomini riuscirà nel miracolo Giacomini che grazie poi anche al miracolo compiuto a Torino andrà a sedersi su panchine importanti come quelle del Milan il Torino arriva a nono e porta agli annali una partita a suo modo storica il 14 marzo del 1982 infatti per comporre l'11 Granata quel giorno contro la Fiorentina il tecnico Udinese stabilisce un record non è che il record sia del 20 settembre ma il 20 settembre è importante perché comunque eravamo primi in classifica voi direte va bene era appena cominciato il campionato ma perché privarsi sempre delle gioie quindi ritorniamo al 14 marzo così con un rimbalzo che ci permettiamo nel Lunario perché quel giorno appunto il tecnico Udinese stabilisce un record e manda in campo ben 10 giocatori che provengono dallo stadio Philadelphia l'unico straniero è il portiere Giuliano Terraneo comunque presente nella compagine Granata dal 1977 per il resto veterani e giovani sono tutti fatti in casa Cuttone Beruatto Giacomo Ferri Zaccarelli Ermini Bonesso Bertoneri Dossena Sclosa e il supereroe Paolo Pulici dunque questa giornata storica il nostro Francesco Bugnone ha dedicato una puntata della sua rivista Culto su Toro News che vi invito ad andare a leggere la compagnia di Francesco è sempre di ottimo livello però valeva la pena ricordare questo appunto ma per tornare alla seconda giornata 1 a 0 al Bologna e cito dalla stampa Paolino Pulici vecchio e mai stanco eroe del gol non ha tradito i tifosi della curva maratona e con un gran sinistro dal limite imprendibile ha regalato al Torino la vittoria sul Bologna e il primo posto in classifica l'episodio va raccontato subito prima del commento alla gara e in omaggio alla Punta Granata il migliore dei cannonieri ancora in attività che bel tributo eh allora facciamogli anche noi un piccolo tributo e noi non lo raccontiamo con le parole ma lo raccontiamo con le immagini quel gol il 20 settembre sempre questa volta del 1987 un altro cannoniere di razza che sotto la mole è stato troppo poco ne fa invece tre alla Sampdoria l'ex Scarpadoro austriaco di provenienza quella domenica fa vedere di che pasta era fatto e di che cosa era capace e non averlo visto di più con la nostra maglia è uno dei miei grandi rammarichi parliamo di di Tony Polster che quella domenica fece letteralmente impazzire i ciclisti e anche qui un bel tributo visivo non può mancare il tiro al bersaglio comincia al sesto minuto con questa punizione Polster poi si forma un po' di mischia interviene ancora Polster e insacca per l'uno a zero in favore di Granata i quali raddoppiano al trentasettesimo con questa azione partita da Comi proseguita da Rossi il quale poi serve Bergren il Granata si libera dell'avversario porge a Rossi ed è il gol del 2 a 0 per il Granata così si va al riposo all'inizio della ripresa lancio lungo per Polster ancora lui ancora gol per il 3 a 0 poi al trentostesimo azione Rossi Polster dunque una doppietta gol del 4 a 0 per il Granata verso la fine la Sampdoria accorcia Bonomi Serezo Vialli Rete dunque archiviate le partite e al capitolo esordi che la messe per quanto riguarda il 20 settembre è ancora più significativa in questa data esordiscono tra gli altri Ansaldi Zappacosta e il 20 settembre del 1959 tre mesi prima che io nascessi sono addirittura quattro gli esordi in serie B di cui perché eravamo in serie B in quel campionato di cui uno addirittura eccellente infatti in quella partita esordiscono nell'ordine scesa Moschino Lancioni e e lui il capitano Giorgio Ferrini dunque il Torino come ho detto era in serie B per la prima volta dieci anni dopo Superga il purgatore del calcio italiano accoglie la squadra Granata che lotta per risalire ovviamente lo farà subito il 20 settembre c'è San Benedettese Torino 0 a 0 e la partita non è che assurga agli onori della cronaca per quanto si vede in campo anzi ma assurge agli onori della cronaca ex post perché di quei quattro almeno tre sono stati grandi di cui uno di quei tre grandissimi leggiamo dalla stampa del lunedì successivo tutto considerato si può dire che il Torino abbia portato via un bel punto da uno dei campi più difficili che esistano nella serie B del campionato italiano saremo curiosi di vedere al termine del torneo chi sarà riuscito a fare di meglio è stata quella di ieri una lotta atletica più che un vero e proprio incontro di calcio un correre senza interruzione un gran saltare per il pallone che era sempre in aria un gran picchiare sodo nella palla come si riconosce la prosa di 60 anni fa chiusa parentesi il tutto senza costrutto che di tiri in rete che meritassero successo diciamo pure di tiri in rete nel rettangolo della porta decisivi cioè nel senso assoluto del termine non se non se ne sono visti né da una parte né dall'altra per ironica chiusa citazione per ironia potremmo dire cioè non è che allenava Iurice non si riusciva a segnare neanche allora ma dicevamo quella data è storica per l'esordio di Giorgio Ferrini il giocatore simbolo del Torino descritto in cento modi è uno più mitico più devozionale più rispettoso dell'altro l'eroe il triestino dagli occhi color del cielo che portò tra l'altro quel cielo in terra cioè nella terra del Filadelfia del comunale una delle ragioni più belle e più giuste per sentirsi tifosi del Toro a Ferrini è già stato dedicato ogni sorta di omaggio me ne permetto anche io uno piccolo magari così con qualche immagine non proprio delle più consuete No Leaders Please by Charles Bukowski Invent yourself and then reinvent yourself Don't swim in the same slough Invent yourself and then reinvent yourself and stay out of the clutches of mediocrity Invent yourself and then reinvent yourself Change your tone and shape so often that they can never categorize you Reinvigorate yourself and accept what is Put only on the terms that you have invented and reinvented Be self-taught and reinvent your life because you must It is your life and its history and the present belong only to you Il 20 settembre è anche una data molto speciale per Christian Ansaldi infatti non è soltanto il giorno del suo esordio ma è anche in Maglia Granata ovviamente ma è anche la data della sua nascita Ansaldi arriva in Sordina nel 2017 dopo che i Granata hanno venduto all'ultimo sia Bruno Peres che Davide Zappacosta il Rosarino Ansaldi perché è di Rosario ci tengo a dirlo aveva esordito nel Newells in Patria per poi sbarcare in Europa aveva transitato due nazioni Russia e Spagna prima di arrivare in Italia Sponda Genoa e poi passare all'Inter ed è proprio dall'Inter che il Torino lo preleva all'ultimo minuto per così tamponare le partenze sopraddette dunque al Torino rimane per 5 stagioni 135 presenze complessive e 10 gol un'ottima carriera e Ansaldi ha lasciato un ottimo ricordo tra l'altro sono ricordi recenti condivisibili da tutti quelli che ci ascoltano e quelli che condividono con noi questa passione e questa ora che passiamo insieme di mercoledì un giocatore che ad ogni squadra fa comodo e quanto ha fatto comodo a noi lo capiamo molto di più adesso che un giocatore così non ce l'abbiamo personalmente penso che avesse il passo e la tecnica del fuoriclasse penalizzato però da troppi guai fisici che gli hanno impedito una carriera di altissimo livello comunque sulla sua fascia era un'autentica spina nel fianco degli avversari soprattutto in fase offensiva dove con la facilità di palleggio la facilità di finta e passaggio la facilità di finalizzazione per i compagni e a volte anche nella porta avversaria gli permettevano prima e sistematicamente di cambiare ritmo alla partita era veramente un artista in questo fondamentale nel cambiamento di ritmo nel passaggio da un andamento lento ad un andamento più veloce o al contrario e poi ovviamente come dicevamo con la capacità di palleggio con la facilità di palleggio di passaggio finalizzare un ottimo elemento sul terreno di gioco e fuori uno dei talenti più limpidi che in questi ultimi anni hanno calcato l'erba del comunale fa piacere ricordarlo appunto 20 settembre la sua data di nascita e tanti auguri ovviamente e 20 settembre la sua data di esordio in maglia granata alla prossima di esordio Grazie a tutti